Ancora un giorno per ammirare le straordinarie opere di Vittorio Bruni, esposte ormai da quattro settimane alla libreria Mu di Corso Bandiera a Lanciano. Inaugurata lo scorso 5 maggio, le immagini che vedete infatti si riferiscono proprio all'apertura della mostra, in un'atmosfera di cordialità sottolineata dall'arte e dalla cultura, perfettamente in linea con la libreria di Stefano e Paolo, che vuole appunto essere uno spazio culturale di incontro e di confronto, e finora il successo delle iniziative realizzate dicono proprio che la strada scelta, seppur faticosa, è quella giusta. Larghi consensi anche alla presentazione del libro La paziente del sabato di Roberta Villini, giovane scrittrice ortonese, che ha ricevuto non pochi apprezzamenti e critiche lusinchiere per il suo romanzo, complesso, a tratti drammatico, sulla difficoltà di essere giovani, un racconto sull'anoressia e sull'amore contrastato di Alessandra e Martino, ma è anche un racconto di speranza, di luce. E tornando alle opere di Vittorio Bruni, abruzzese, di San Vito Chietino, artista poliedrico, di fama internazionale, pittore, scultore, eccellente grafico, la sua storia è nota, ma vale la pena ricordare che negli anni 70 e 80 frequentò gli stage di Haring e di Andy Warhol, e la sua amicizia con la famiglia Chaplin, un fortunato sodalizio anche professionale. Ha ricevuto numerosi premi internazionali, espone in importanti gallerie e musei in Francia, Germania, Israele, Italia, Stati Uniti e Svizzera, dove risiede, ma ama molto, come in questa occasione, esporre nel suo Abruzzo, nei luoghi che hanno accompagnato pezzi importanti della sua vita, e a Lanciano è molto legato. La città ha sempre ricambiato il suo affetto, pure stavolta, in tantissimi si sono soffermati davanti alle sue opere, catturati dall'originalità delle sue creazioni, dai materiali che utilizza per dar vita a suggestioni ed emozioni, ed eccoli i suoi lavori, opere simboliche nei contenuti e nei nomi, Icaro, Primavera, Luna Rossa, Casa Dolce Casa, Sacro e Profano, Volere e Volare, Trono Vagante, per dire solo alcune. Opere che propongono un eccezionale viaggio in un universo fantastico, ricco di sogni, ma anche di elementi che invitano a riflettere sulle relazioni e sull'amore. Molte opere sono state acquistate, segno tangibile di quanto l'arte di Vittorio Bruni sia apprezzata e di quanto sia stata lungimirante da parte di Stefano e Paolo ospitare questa mostra.